La zona più capita è questa del Tarantino, non ci sono dubbi, è questa. Poi i danni maggiori si hanno subito gli agrumeti, tutti gli agrumeti hanno subito dei danni che si vedono, non è che li possiamo nascondere, i danni che hanno subito gli agrumeti per quest'anno e per l'anno prossimo sono rilevanti, non sono quantificabili ma sono rilevanti. In questa zona particolarmente anche le ue da tavola, perché le ue da tavola gli investimenti sono enormi e buttare a terra un tendoneo di ue da tavola è difficile che lo puoi rialzare con molte spese, ma è difficile poterlo rialzare. Il danno alla produzione ci sarà già, ma il danno grosso è quello alle strutture, i costi da sostenere sono davvero costi importanti, quindi quello che è stato fatto forse non tiene conto della gravità di questo problema. Non voglio insinuare, spero che non sia così, ma bisogna che il governo intervenga con massicce dosi di risorse liquide e lo faccia anche l'Unione Europea in deroga a tutte le norme burocratiche che ci sono, perché questa situazione è davvero eccezionale. Dicevo prima con i miei collaboratori è come se fosse venuto un terremoto anche in Puglia.